L'ospedale Bambi Gesù è il più grande ospedale pediatrico d'Europa. Noi abbiamo 27.000 missioni l'anno e 1.700.000 prestazioni. All'interno di questo abbiamo ogni anno oltre 10.000 pazienti affetti da malattie rare. Abbiamo una quarantina di sottospecializzazioni pediatriche, per cui riusciamo a aggredire i pazienti affetti dalle malattie rare multisistemiche con ogni tipo di strumento. Essendo un istituto di recovery cure a carattere scientifico, coniughiamo anche l'attività clinica con l'attività di ricerca. Noi abbiamo avuto nel 2016 93 progetti di ricerca sulle malattie rare che hanno prodotto un volume di risultati che si sintetizzano in oltre 250 pubblicazioni scientifiche. Quindi cerchiamo di aggredire i pazienti a tutti i livelli, dal problema della diagnosi, della presa in carico, della ricerca, ma anche della formazione e dell'informazione. Noi abbiamo prodotto dei corsi di formazione a distanza che hanno avuto oltre 22.000 studenti in Italia nell'arco di un anno. Abbiamo naturalmente la gestione del più importante database al mondo per le malattie rare, che è Orfanetti. Il nodo di questa rete europea, che è il nodo di Orfanetti Italia, è a sede nell'ospedale Bambini di Gesù. Quindi crediamo di coniugare in maniera abbastanza completa, a 360 gradi, tutti i bisogni dei pazienti e oltre il 30% dei pazienti che noi vediamo vengono da fuori regione o vengono da paesi stranieri.